Bentornati nella cucina di Italian Foodnet. Il piatto che vi farò vedere oggi è la sogliola alla mugnaia. Gli ingredienti per quattro persone sono 4 filetti di sogliola ben puliti, farina, il succo di mezzo limone, prezzemolo fresco, 80 grammi di burro e sale. Inferiniamo leggermente le sogliole. In una padella ben calda mettiamo il burro. Fiamma medio alta. Appena il burro si è sciolto mettiamo le sogliole in padella. Mettiamo un po' di sale. E dopo 30 secondi le giriamo. Dopo 30 secondi aggiungiamo il succo di limone. Lo facciamo evaporare e aggiungiamo un po' di prezzemolo. Fate cuocere per altri 15 secondi e poi è pronta. Facendo attenzione a non romperle le serviamo sul piatto di portata. La sogliola alla mugnaia. Alessandro, Italianfoodnet.com La sogliola alla mugnaia.